Continua a tenere banco a penne la vicenda Paolo VI. Nei giorni scorsi, attraverso un comunicato, la Curia di Pescara Penne, che gestisce l'ente, ha presentato presso il Comune di Penne la richiesta di approvazione del nuovo centro socio-riabilitativo San Massimo della Fondazione Paolo VI Onlus. L'ente attivo da più di 30 anni nel settore della sanità privata, autorizzato dalla Regione, dal Comune e dalla ASL ad effettuare prestazioni a carattere sanitario, vuole essere più presente, dice Monsignor Valentinetti, arcivescovo della diocesi di Pescara Penne e da poco nuovo presidente della Fondazione, nell'ambito delle attività di riordino dei servizi assistenziali e riabilitativi nell'area vestina e per mantenere la sede del Comune di Penne, attualmente nel centro storico adiacente il Duomo e con problemi di strutture e di accesso, ha individuato come idoneo alle nuove esigenze per estensione, posizione e accessibilità il comparto edificatorio degli insediamenti produttivi in località Ponte Sant'Antonio. Il nuovo edificio, con una superficie lorda di circa 1650 metri quadrati, continuerà ad offrire attività plurime riabilitative rivolte ad adulti e bambini e derogherà prestazioni sempre all'avanguardia. Ma tutto questo ha fatto storcere il naso a qualcuno, specialmente a chi, dalla Fondazione Paolo VI, aspetta delle risposte da più di un anno per quanto riguarda il sociale. Infatti da uno dei familiari arriva lo sfogo su Facebook. Non confondiamo la riabilitazione con il sociale. Dove è il progetto per il 2019? Ci sono degli impegni presi e sottoscritti. Peccato che l'incontro, che ci sarebbe dovuto essere già a settembre, non è stato rispettato e che nessuno risponda agli inviti inviati. A questo fanno eco le parole di Rocco D'Alfonso, ex sindaco di Penne, adesso in Regione Abruzzo, che bacchetta l'ambito e il Comune di Penne, e dove risiede la maggior parte dei ragazzi che usufruiscono del centro. Sostenendo come la Regione Abruzzo negli anni scorsi abbia fatto già la propria parte, finanziando una cifra di circa 50.000 euro, ma che basteranno fino a fine anno e con il rischio di rimanere nel 2019 senza un progetto e di conseguenza senza finanziamenti, facendo ritrovare, come negli anni scorsi, tante famiglie prive di servizio. Spero che il Comune si attivi, continua ad Alfonso, dando quanto meno una risposta alle associazioni pronte a mobilitarsi. con grande energia.